ciao a tutti e benvenuti, noi siamo a parte di minecraft fatti 18 e qui ragazzi e qui ragazzi andiamo a fare posizioni adesso ho fatto i posizioni dell'airbus e le posizioni anche davanti deve mai succedono ma ora ovunque dove è fango questo? tutto da me mi capitano tutto da me mi capitano veniamo a continuare a farla veniamo a continuare a farla scappando da te vestiacce ma se vuoi essere più sfortunati di questo? si a me deve non succedere ok 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 ecco fatto magari qua aspettate ok che è del prima forniamo quattra bottiglia si ora bevo uno qui uno qua una bottiglia bene, ora non so aspettare qui la roba che non serve e qui la roba che serve ok, con le motivi magari mettevole via ah si, non può andare anche la roba che non faccio le persone qui alcune non prenderai ah si, non prenderai cose ok, poi a un posto quello che ci serve possiamo andare sta una pozione, sta una pozione, sta una pozione adesso possiamo mettere questa roba mettiamo una qui mettiamo una qui qui adesso mettiamo un altro tipo qua aspetta qua, abbiamo messo anche questo ora tocca qua, ah no aspetta ok, ho fatto il gioco ho qualche pozione qua quattro eri di forza quattro eri invece di di guarigione perfetto cosa hai fatto? ho, vediamo le pozione che non ci ho fatto lo poter da acqua magari c'è il suo specchio lo prendiamo prendiamo ancora che io diventerò fregone ros Kirk ah,iale tit un altro che la facci pasando nelle stranche possione oh ah, sta una posione, non puoi dare la Ahca roba che ci serve e vediamo poi, lei abbastanza roba che mi serviva cavolo ho perso bene no, dove è finita, cazzo qui non c'è qui non c'è what the fuck what the fuck doppio qui c'è si, c'è una porzione, però ci manca la corrente che avevamo prima lo zucchero e quella roba lì la peterosa non mi ricordo che fosse serve, ma non mi ricordo la peterosa serve, vabbè, non so da, vabbè, prendiamo la roba che ci serve un po' dopo prendiamola da qua, così non prendiamo tempo vediamo un po' se non baglio la piet... ci sembra la polvere adesso, adesso lo zucchero zucchero ok possiamo farci le porzioni buttare d'acqua, buttare d'acqua, non ho ancora mettere questa cosa qui da qua invece possiamo mettere goto zucchero voglio vedere se va anche questa occupato, oh cazzo lag vediamo se si va a peterosa, ma che vuol dire no infatti no, infatti mi ero immaginato che non andasse e ne manca la peteroluce e poi, allora quella roba che ci manca, non lo so oh, dov'è quello dello zucchero? oh, è sparito riproviamo vediamo se la roba ah si quant'è da velocità che ci serve molto? abbiamo molto debolezza, forza, velocità ancora ancora forza saluta mettiamo un po' in ordine, così vediamo che tipi sono beh, per ora solo quattro tipi di possioni sono uscito a farlo a farle voglio vedere se c'è qualcos'altro ah si, ancora quelli di velocità qua qua devi stare dove te stare e qui che sono dove me ne sta una porzione, beh, facciamo un'altra velocità che serve qui è vuoto prendiamoci questa polvere di blaze beh si, troppo dovremmo essere pronta oh si, proprio dopo ci mettiamo questo altrimenti se non mi se si vuoi contare velocità ah si ancora forza ok 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 di questo cos'è? si è stata una pozione se voglio era questo non mi ricordo questo questo ah si manca ancora una cosa che non mi ricordo si chiama no cosa è la povera? ma avete la sacco quella roba è la palla non mi ricordo cos'è ah si cosa è la debollessa debollessa che ci toglie messo di danno è possibile che con con la competizione non si deve fare niente credevo che si faccia qualcosa una qui facciamo un altro round ah bene le persone si servono a botto per l'ultima parte ah si devo anche fare la visione notturna perché quello serve ma non mi ricordo che in grande che si usa è possibile che ah forse è quella roba lì ma non mi ricordo ah si vedevo a gast? so vediamo che che cosa dava quale potere la posizione vediamo se con il solito ci facciamo questa notturna e tanto voglio sapere con il signore ecco qua qua parla l'accomico mi scordo sempre io boh se non era blaze non era io poi non è blaze non è pigman allora big zombie ok come ho detto non so quale ok non ci sono fatti la posizione di e io mi sono tutti sono fatti quella di roma generazione che serve anche se anche questo tuoi non c'è la tenda dovrebbe farla per ecco cosa c'è un'ora se voglio del tempo per il quale non so o quando siete per recuperare il quale io oppure oppure questo non so mi dovete anche commentare e direi che il rossale l'ingagnante vi cerci serve e puoi dire che non ci posso fare niente no se voglio c'è già un altro ingagnante ma era la carta dorata carta dorata era l'altro effetto sta posione quindi era veniamo qua poi un po' l'anguria l'amore ah sì mettiamo di nuovo questo e veniamo po' che vado a controllare ciù se ho qualcosa ne ho po' niente ok qui non ho niente di strano qui non ho niente ah aspetta, riportiamo questo che devo fare un altro colore diventiamoci a fare i colori di acobaleno e anche uno viola fatto si ho toccato toccerebbe con quello verde il milone da vare guaricione la prima volta mi do scrivere su un foglio di qua qua vado poi mi fado qua con la persona che sta qua vediamo un po' cosa dà ed ecco qua la bisogna nottuna finalmente che chissà quella palla lì come ne 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 ho proprio un'idea bene per ora solo se tipi di possione ci siamo fatti veniamo di coccopi e riuscire a finirle per sapere quali di debolezza magari li finiamo prendiamoci un po' vediamoci un po' qui ci c'è un'altra bottiglia ordinaria oh cavolo non sono quelli sono sono quelli qua nullate densa densa finiamo finiamo almeno questo qualche altro ci manca quello di forza quello di guarigione vabbè vediamo un po' se questa è pronta oh cavolo oh cavolo siamo già alle 8 minuti il suo moco corto debolezza vabbè finiamo un po' qua come ho detto ho sbagliato di nuovo con quello di ordinario mettevolo qua ok ragazzi parte finita alla prossima l'abbiamo super aspetta lascio ma sennò qui devo cercare la roba per le possioni allora la roba che che la mettevolo più magari mettevolo via aspetta non ho più la motore di ferro bene i creati mi madonna santa mi devo ripetere la natura quasi non non dovrei imbrogliare ma vi però però si vuoi fare così se sei bello quindi va a fanculo lascio così qui non è l'incanto perché tutto non serve a niente ok ragazzi parte finita alla prossima che andiamo a mettere il gioco e mi verrà in mente che fare bene alla prossima ragazzi ciao ciao